Benvenuti o bentornati sul mio canale, il mio nome è Chiara e da sempre sono appassionata di cronaca nera e su questo canale voglio parlare di casi italiani ma anche di casi un po' più lontani da noi e proprio per il caso di oggi ci troviamo negli Stati Uniti, in una delle zone più rurali del paese, lo stato dell'Ohio. Sono venuta a conoscenza di questa storia nel 2017 quando era ancora un caso irrisolto e mi aveva veramente turbato perché è la storia di una famiglia composta da diversi nuclei familiari che è stata sterminata. Queste otto persone si trovavano in quattro proprietà diverse e quindi questo significava che l'assassino era andato di casa in casa ed aveva eliminato ogni membro della famiglia Roden e quando sono venuta ovviamente a conoscenza del fatto che questo caso fosse stato irrisolto ho deciso appunto di dedicarci un video. Iniziamo subito con la nostra storia. Oggi ci troviamo nella contea di Pike, in una delle zone più rurali degli Stati Uniti, a sud dello stato dell'Ohio. In questa parte di America vasti lembi di terra si alternano a minuscoli centri urbani composti solo da qualche migliaio di abitanti. Pensate che l'intera contea nel 2016 ospitava una popolazione di appena 22.000 persone. Se andiamo su Google Map infatti e cerchiamo Pike County, Ohio, avremmo una percezione ancora maggiore di quanto questa comunità fosse isolata. Campi che si estendono per chilometri e chilometri e case di campagna. In questa zona rurale degli Stati Uniti operano circa 75.000 fattorie su un territorio di quasi 14 milioni di acri. Questa contea inoltre è circondata da un parco molto esteso, il Pike State Forest, un lago, il Pike Lake State e la Sayota State Forest, dove si trovano centinaia di ettari di terra dove poter fare escursioni, campeggiare e praticare anche della pesca. E in questa realtà troviamo la famiglia Roden. All'interno della famiglia Roden esistevano diversi nuclei familiari, ma tutti risiedevano relativamente vicini gli uni agli altri. Ed ora vi presento gli attori, diciamo, principali di questa storia. Christopher Roden Sr. aveva 40 anni e la sua ex moglie Dana ne aveva 37. Dana e Christopher avevano divorziato diversi anni prima e vivevano in case separate da relativamente poco. I due continuavano ad essere però in buoni rapporti. Avevano avuto tre figli durante il loro matrimonio e Dana nel 2016 viveva con due di questi figli. E il più giovane di loro si chiamava Christopher Jr. di 16 anni. Il ragazzo frequentava il liceo, la Pike High School, e nell'aprile del 2016 aveva da poco ottenuto la patente di guida. E l'altra figlia che viveva con la madre, quindi con Dana, era quella invece intermedia, di nome Hannah May, di anni 19. Nella casa con loro viveva anche la figlia di Hannah May, di nome Sophie, di appena 4 anni. E al momento dei fatti, che vi racconterò a breve, Hannah May aveva da poco partorito una seconda bambina, di nome Kaylee. Da tutti viene descritta come una mamma amorevole e nonostante la giovane età, cercava davvero di fare di tutto per le sue figlie. Tornerò a parlare di Hannah May a breve, ma prima voglio presentarvi il resto della famiglia Roden. Il terzo figlio di Dana e Christopher Senior si chiamava Clarence Roden, di anni 20, che tutti però chiamavano Frankie, e quindi anche io lo chiamerò in questo modo Frankie. Frankie nel 2016 viveva con la sua fidanzata, di nome Anna Hazel Gilley, da non confondere con Hannah May, che invece era sua sorella. E Frankie e Anna Hazel Gilley avevano due bambini, uno di tre anni e l'altro di appena sei mesi di età. Quindi Dana e Christopher avevano avuto tre figli. La famiglia viveva dunque in tre proprietà diverse, che però si trovavano tutte sulla stessa strada, la Union Hill Drive. Dana, Christopher Junior, Anna May e le sue figlie risiedevano al numero 4199. Si erano trasferiti in questa casa nel marzo del 2016. Nonostante le tre proprietà stessero tutte sulla stessa strada, si trovavano a quasi tre chilometri di distanza. Quindi insomma non erano di rimpettaie, erano comunque abbastanza lontane. Anna May aveva avuto la prima bambina, Sofia, all'età di 15 anni, dal fidanzato dell'epoca, di nome Jack Wagner. Quando si erano conosciuti, pensate, lei aveva solamente 13 anni e lui 18, ed avevano iniziato ad avere rapporti sessuali quando lei aveva solamente appunto 13 anni ed era rimasta incinta a 14 e aveva partorito sua figlia a 15. Tuttavia la relazione con Jack e Dana May non era proseguita a lungo. Infatti i due si erano lasciati poco dopo la nascita della bambina e stavano lottando da anni per la custodia della piccola. Dana a sua volta aveva una sorella di nome Bobby Joe Manley che viveva sempre nella stessa contea. Bobby era disoccupata da tempo e quindi il suo ex cognato Christopher Senior le aveva offerto un lavoretto nella sua fattoria. Ogni mattina infatti Bobby Joe si sarebbe occupata di dare da mangiare ai cani e alle galline della proprietà che era veramente tra l'altro molto vasta. Christopher Senior a sua volta aveva un fratello più grande di lui di nome Kenneth di 44 anni ed un cugino con cui era particolarmente legato di 38 anni di nome Gary che viveva con lui. Suo fratello Kenneth Rogan era un amante delle motociclette iniziava, pensate, la sua giornata lavorativa alle 4.30 del mattino e guidava fino alla città di Columbus in Ohio dove lavorava in una compagnia che forniva servizi di elettricità e gas. Viveva al 1084 di Left Fork Road a circa 15 minuti di distanza da dove viveva il resto della sua famiglia quindi era uno dei pochi membri della famiglia a non vivere sulla Union Hill Road. Kenneth, da quello che sono riuscita a comprendere, viveva in una specie di camper sprovvisto anche di doccia motivo per cui ogni singola mattina Kenneth si recava prima di andare al lavoro a casa di suo fratello Chris per andare appunto a farsi una doccia da lui. Le case si trovavano rispettivamente al 4.700 Union Hill Road dove vivevano Chris e suo cugino Gary 4.199 Union Hill Road dove vivevano Dana, Hannah May e le sue figlie e Christopher e infine il 3.122 Union Hill dove viveva il figlio maggiore di Dana e Christopher di nome Frankie con la sua compagna fidanzata perché si sarebbero sposati l'anno successivo Hannah Hazel Gilley e i loro due figli. Scusate il lungo intro alla famiglia Rodan ma questo è stato necessario soprattutto comprendere dove i membri della famiglia vivevano all'interno della contea di Pike e certamente ne comprenderete il motivo nel corso del video. La famiglia Rodan era ben voluta nella comunità tutti la conoscevano lavoravano ufficialmente del lavoro dei campi ma Chris con suo cugino Gary trafficavano marijuana infatti all'interno della loro proprietà che tra l'altro si estendeva su diversi acri e aveva diversi annessi quindi diverse costruzioni erano presenti diverse piante di marijuana Bobby Joe come tutte le mattine come vi ho appena detto andava a dare da mangiare agli animali della fattoria di Chris e così fece anche venerdì 22 aprile del 2016. Appena parcheggia la macchina sull'Union Hill Road nota qualcosa di insolito che i cani si trovavano fuori casa fino a quel momento Bobby Joe le aveva sempre trovati all'interno della proprietà ma questa volta si trovavano all'esterno inoltre il camioncino di Chris era parcheggiato nel vialetto e questo indicava che Chris non si era probabilmente recato al lavoro era rimasto a casa inoltre nota che la porta d'ingresso del trailer dove viveva era chiusa a chiave Bobby Joe però aveva la chiave della porta e così entra al suo interno all'ingresso vicino alla porta trova delle chiazze di sangue nella sala da pranzo nota che la poltrona reclinabile era stata spostata da un'altra parte della stanza il tappeto era piegato su se stesso e non steso sul pavimento una striscia di sangue dal salone conduceva fino all'ultima camera del trailer e Bobby Joe segue quella striscia di sangue e va nella camera da letto lì vedrà il corpo di Christopher e suo cugino Gary coperti di sangue giacero a terra privi di vita i loro corpi erano entrambi coperti da un lenzuolo e c'era sangue ovunque in quella stanza anche addirittura sui mobili sulle pareti sul soffitto e Bobby chiama immediatamente il 911 alle 7.49 del mattino la donna parla con un certo affanno è in evidente stato di shock ma purtroppo quella non sarà l'unica scena traumatica a cui assisterà quel giorno Bobby Joe infatti la donna lascia correndo casa di Christopher non aspetta nemmeno l'arrivo della polizia nello stesso momento in cui lascia casa di Christopher per entrare nella sua auto un altro membro della loro famiglia che si trovava casualmente a passare di lì di nome James la vede correre con un'espressione terrorizzata sul volto e così percepisce che doveva essere accaduto qualcosa e così la segue in auto Bobby e James dietro di lei parcheggiano la macchina al 3122 di Union Hill Road Bobby e James che nel frattempo viene informato di quanto accaduto bussano alla porta di Frankie e ad aprirgli sarà il figlio dell'uomo e di Hannah Hazel di soli tre anni il piccolo dice che intorno a suo padre c'è tantissimo sangue e quando entrano nella casa e si recono nella camera da letto vedono il corpo di Frankie Rodan e Anna Gilley senza vita fortunatamente il bambino di sei mesi era illeso e pensate si trovava tra i due genitori morti nel letto infatti era coperto dal sangue dei genitori Anna Hazel aveva delle bretelle del reggiseno slacciate ad indicare che molto probabilmente quando era stata uccisa giustiziata con un colpo d'arma da fuoco alla testa stava allattando suo figlio pensate che sul volto della ragazza erano presenti delle strisce di sangue non dovuto però al colpo di pistola bensì al bambino di sei mesi che in seguito alla morte di sua madre nel corso della notte aveva cercato di arrampicarsi su di lei all'interno del trailer le luci che di solito venivano lasciate accese durante la notte erano ancora accese così come anche la televisione e al centro della sala si trovavano diversi giocattoli da bambino a questo punto bobby e james decidono di recarsi nell'ultima proprietà su quella strada della famiglia rodan la casa di sua sorella dana e dei suoi due nipoti quando arriva alla porta inizia a chiamare il nome di dana ma nessuno arriva ad aprirgli quando non sente nessuno rispondere pensa di dover forzare magari la porta d'ingresso ma scopre che in realtà era già aperta i due camminano lungo il corridoio sorpassando le stanze di anna may e christopher junior sarà proprio james ad entrare nella camera di dana la stanza era buia ma racconta di intravedere il corpo di dana che giasceva sul letto l'aveva toccata come per farla svegliare e vedendo che la donna non si muoveva aveva cercato di sfilare il cuscino da sotto la sua testa il cuscino però sembrava bloccato così james aveva capito in quel momento che dana era morta mentre james cammina verso l'uscita sente il pianto di sua nipote di appena pensate cinque giorni kylie perché anna may aveva partorito quella bambina solo cinque giorni prima del 22 di aprile tuttavia james nonostante avesse udito le grida di quella neonata non era nella condizione mentale per poter andare da lei ed aiutarla doveva uscire a tutti i costi da quella casa non volle vedere in che condizioni si trovavano i suoi nipoti l'unica persona in questo caso bambina che non era presente quella sera era la bambina di quattro anni di anna may sophie infatti si trovava a casa di suo padre jack wagner e di la sua famiglia così james esce dal trailer proprio fuori casa di dana bobby joe e james riescono a fermare la pattuglia della polizia che in quel momento si stava dirigendo alla proprietà di christopher e sarà la polizia a scoprire che non solo dana era morta ma anche i suoi due figli anna may e christopher junior tutti giacevano nei loro letti coperti di sangue quindi molto probabilmente all'inizio gli inquirenti ritennero che fossero stati uccisi mentre dormivano la prima sospettata di quegli omicidi nelle primissime ore fu proprio bobby joe che venne sottoposta poi nelle settimane successiva a ben due test del poligrafo che superò entrambi fino a quel momento quindi le vittime accertate erano sette un adolescente sei adulti tutti i membri della famiglia roden uccisi in tre diverse proprietà ma quel giorno quel 22 aprile una seconda chiamata venne fatta al 911 donald stone era sempre un membro della famiglia roden anche se aveva un cognome diverso dalla parte di chris roden e quando sentì della notizia della morte di suo cugino chris iniziò a preoccuparsi anche per il fratello di chris kenneth donald provò a contattarlo più volte quel 22 senza ricevere risposta kenneth roden non viveva sulla union hill road ma viveva a circa 6 miglia di distanza più o meno 15 minuti di macchina e quando donald si rega nel trailer di kenneth rinverrà il corpo senza vita dell'uomo e chiamerà immediatamente il 911 e quindi a questo punto le vittime accertate erano ben otto tutti membri della stessa famiglia uccisi in quattro diverse abitazioni la polizia sin da subito decide di chiedere l'aiuto dell'fbi in quella che sarebbe diventata l'indagine per omicidio più vasta della storia dell'ohio e ora vi parlerò della causa della morte per ciascuna vittima christopher senior venne colpito da bene nove proiettili ci sono anche segni di una aggressione sul suo corpo come anche delle fratture sul braccio destro il che suggerisce che l'uomo fosse sveglio al momento del suo omicidio e che abbia anche tentato di difendersi venne raggiunto da diversi proiettili sul torace sulla guancia e alla testa un proiettile probabilmente indirizzato a lui l'aveva mancato conficcandosi nella porta ricostruendo la dinamica dell'attacco si ritiene che christopher e gary fossero stati i primi ad essere eliminati intorno alle 11 di sera di martedì 21 aprile gary rodan era stato colpito invece due volte alla testa ed una al volto e possiamo già notare come si fossero certamente più concentrati su christopher piuttosto che su suo cugino gary e pensate che la cana della pistola era stata premuta con così tanta forza sulla tempia di gary da lasciare un segno che era rimasto anche appunto post mortem il loro trailer era stato l'unica proprietà in cui l'attacco era iniziato in una stanza in questo caso il salone e si era concluso in un'altra quindi l'aggressione si era spostata da una zona all'altra inoltre christopher era stato picchiato per questo la scena era letteralmente ricoperta di sangue presente veramente su ogni superficie arrivava fino al soffitto c'erano impronte di scarpe proprio sulle strisce di sangue sul pavimento e proprio dall'analisi degli schizzi di sangue gli esperti ritennero che chris probabilmente era stato trascinato da uno degli aggressori dal salone passando per la cucina fino alla camera da letto dove lo avevano colpito nuovamente e sparato alla testa uccidendolo c'erano proiettili incastonati anche sul portico dal quale si accedeva al trailer proprio sul telaio della porta ma non sulla porta e questo indicava che la porta probabilmente fosse spalancata al momento in cui era iniziato l'attacco e che gli assassini avessero iniziato a sparare proprio in prossimità del portico quindi mentre si trovavano all'esterno del trailer e si stavano approcciando all'entrata la proprietà di chris e gary era letteralmente immensa il terreno si estendeva per acri ed acri ed aveva delle piccole costruzioni delle rimesse diciamo al suo interno tra cui anche una rimessa per gli attrezzi gli agenti notarono che uno di questi edifici aveva una maniglia rotta quindi la porta al loro arrivo era completamente spalancata notarono che sopra questa porta si trovava una telecamera di sorveglianza che riprendeva all'esterno di quella proprietà proprio verso il trailer di gary e chris e aveva poi anche delle telecamere all'interno questo però poteva significare che quella telecamera posizionata quindi esternamente avrebbe potuto riprendere il momento in cui gli assassini erano arrivati sulla scena quindi prima che entrassero sul portico all'interno di quella stessa rimessa che aveva appunto la maniglia della porta rotta si trovavano anche altre telecamere gli investigatori sperarono di trovare le registrazioni ma scopriranno che l'apparecchio a cui erano connessi i fili delle telecamere era sparito chiunque avesse perpetrato l'attacco doveva conoscere la presenza di quelle telecamere e così aveva forzato volutamente l'ingresso a quell'edificio a quella rimessa rompendo la maniglia staccando i fili di tutte le telecamere della proprietà e portando con sé l'apparecchio sul quale erano registrati i video di sorveglianza la polizia raccolse dalla scena il dna lì presente così anche dalla zona esterna al trailer quindi anche sul vialetto repertarono dei mozzicone di sigaretta lasciati lì fuori ma i profili genetici purtroppo appartenevano solo alle vittime quindi non c'erano profili non identificati che avrebbero potuto portare all'identità degli assassini o dell'assassino dana roden era stata colpita quattro volte alla testa e al collo sicuramente il colpo era partito da sotto il mento verso l'alto il figlio minore di solo i 16 anni il più giovane di questo massacro era stato raggiunto da diversi proiettili alla testa mentre la 19enne Anna May era stata colpita due volte alla testa molto probabilmente entrambi i ragazzi dormivano nella terza proprietà Frankie venne ritrovato nel letto con la sua compagna Anna Hazel venne colpito da diversi colpi d'arma da fuoco alla testa e anche Anna Hazel venne raggiunta da ben cinque colpi di pistola e uno di questi colpi perforò il suo occhio sinistro nella parte posteriore del trailer la ventola esterna del condizionatore si trovava sotto a una finestra scorrevole e dalle ricostruzioni gli investigatori ritengono che l'assassino fosse entrato proprio da quella finestra scorrevole in quanto il muro esterno era interamente ricoperto da muschio ed erano visibili delle striature verticali su quella stessa parete ad indicare che qualcuno c'era in pratica salito sopra con i piedi ed aveva spinto contro questa parete ricoperta da muschio inoltre nel telaio della finestra era incastrato ancora proprio bloccato un coltello sotto la finestra nella camera da letto quindi all'interno del trailer si trovavano vari oggetti per l'infanzia che però erano perfettamente in ordine non apparivano spostati non erano caduti a terra come se qualcuno entrando da quella finestra ci avesse fatto attenzione intendo attenzione a non calpestarli la stanza infatti appariva molto ordinata come se chiunque fosse entrato da lì sapeva già che quegli oggetti si trovavano sotto la finestra e quindi sarebbe stato attento in questo caso ad evitarli camminandogli intorno quindi significava che conosceva quella casa c'era già stato le autopsie confermarono che entrambi i ragazzi erano stati uccisi da una calibro 22 a distanza ravvicinata sulla scena vennero trovati cinque bossoli vicino e sotto il letto con il logo REM impresso sopra ad indicare che erano stati prodotti dalla Remington una nota produttrice di armi da fuoco statunitense in un'altra parte della stanza però trovarono un proiettile non esploso il cui marchio di fabbrica però non era Remington ma uno diverso da questo e questo chiaramente indicava che le armi da fuoco erano almeno due quindi probabilmente gli assassini erano due ed infine Kenneth Roden fu l'unico ad essere stato ucciso da un unico colpo di pistola alla testa la famiglia Roden venne colpita da un totale di 32 proiettili la maggior parte di loro erano morti nei loro letti quindi non si erano nemmeno accorti del loro assassino e la polizia esclude immediatamente in maniera categorica che fosse stato uno di questi otto membri della famiglia Roden ad uccidere gli altri sette e dopo a togliersi la vita qualcuno aveva accuratamente pianificato quella spedizione punitiva e giustiziato via via di casa in casa i vari membri della famiglia Roden immediatamente la polizia si concentra sul raccogliere più informazioni possibili su questa famiglia sia dai restanti membri della stessa sia dalla comunità chi poteva aver voluto sterminare una famiglia intera l'fbi stessa brancola nel buio non avendo valide piste o sospettati su cui indagare nell'agosto del 2016 nella contea di Canton nel Kentucky a circa 160 km di distanza dalla contea di Pike ci fu un omicidio simile infatti una coppia un uomo e la sua fidanzata vennero trovati giustiziati nei loro letti e anche in quel caso i due figli della coppia erano stati lasciati illesi nella casa ed inoltre come nel caso della famiglia Roden l'uomo era un noto spazzatore della zona proprio come Christopher Roden ma in seguito emerse che i due casi non erano connessi l'uno all'altro fino al settembre del 2016 la polizia ricevette ben 770 indizi ma questi non sembrano portare a nulla e questo pensate per i successivi due anni la cosa su cui però l'FBI era assolutamente certa era che quella famiglia non era stata scelta a caso chiunque avesse pianificato quella strage voleva essere certo che morissero tutti uno dopo l'altro nel mese di aprile pochi giorni dopo gli omicidi era solito tenersi un festival nella contea e che attirava tra l'altro anche diversi turisti delle contee limitrofe il sindaco decise di non cancellarlo per cercare di mantenere una parvenza di normalità e far anche distrarre i suoi concittadini ma ovviamente le persone che vi parteciparono avevano come unica tematica la strage della famiglia Rodan tutti si facevano le stesse domande chi poteva essere stato la polizia come vi aveva accennato prima scoprì la piantagione di marijuana sia tra l'altro presente all'esterno della proprietà sia all'interno era infatti coltivata in alcune stanze della proprietà di Chris Rodan quindi ipotizzarono in un primo momento che magari la famiglia era stata uccisa a causa di legami con dei cartelli della droga messicana i media iniziarono a scrivere titoli che la famiglia Rodan avesse legami con dei narcotrafficanti e per questo erano stati giustiziati sia Kenneth che Christopher Senior infatti rivendevano della ma in piccoli quantitativi non commerciavano certo volumi importanti ma a partire dall'ottobre del 2016 venne escluso che quello che era avvenuto avesse alcuna attinenza con il commercio della droga ed erano certi che chiunque fosse stato era una persona del posto e conosceva bene non solo la famiglia in quanto proprio i membri stessi ma anche le loro abitazioni sia all'interno che all'esterno avevano ben chiara la dinamica degli attacchi avevano ben quattro diverse scene del crimine ma nessuna pista concreta da seguire perché mancava un elemento fondamentale nella loro indagine un movente ritennero che i killer fossero originari di quella stessa contea e con alta probabilità vivessero ancora lì senza allarmare la popolazione invitano tuttavia le persone a rimanere vigili fino a quando nel 2017 la polizia inizia a concentrare il loro interesse su qualcuno che era stato nel radar degli investigatori sin dal principio la famiglia Wagner e nel maggio del 2017 la polizia perlustra una proprietà nella contea vicina che era appartenente a Jack Wagner una proprietà che lui aveva venduto recentemente ed era il padre biologico della prima figlia di Anna May Sophie che nel 2016 quindi quando la madre era stata uccisa aveva 4 anni e proprio il 20 giugno del 2017 le autorità chiedono pubblicamente informazioni sui 4 membri della famiglia Wagner invitando chiunque avesse avuto rapporti contatti conversazioni con questi 4 individui di farsi avanti ovviamente conversazioni o rapporti che potevano essere inerenti a quanto accaduto alla famiglia Rodan non ho trovato alcuna informazione che spieghi in maniera chiara cosa nello specifico abbia portato le autorità ad investigare sulla famiglia Wagner ma chi era la famiglia Wagner era composta da 4 persone il padre George Wagner III di 47 anni che tutti però chiamavano Billy quindi anche io lo chiamerò Billy sua moglie di 48 anni Angela Wagner e i loro due figli il 27enne George Wagner quarto e lo chiamerò semplicemente George e il 26enne Jack Wagner il padre appunto di Sophie come avevo menzionato poco fa Anna May e Jack avevano avuto una relazione piuttosto burrascosa relazione dalla quale era nata Sophie che all'epoca degli omicidi aveva 4 anni Jack e Anna iniziano a frequentarsi quando lei aveva solamente 13 anni e lui 18 e poco dopo la nascita della bambina tuttavia i due si lasciano ma continueranno a frequentarsi non solo per condividere almeno in un primo momento la custodia della piccola ma anche perché continuano ad avere rapporti di natura sessuale i motivi della rottura tra i due erano stati molteplici tra cui anche il fatto che Jack apparentemente fosse violento con Anna May ora seguitemi su questo punto perché è abbastanza confusionario il fratello di Anna May Frankie come vi ho già detto era in una relazione con Anna Hazel Gilley e il fratello di Anna Hazel Gilley Charles Gilley aveva iniziato a frequentare Anna May nel 2015 quando infatti Anna May rimane incinta di Kylie la seconda bambina c'era un 50% di probabilità che fosse di Jake e l'altro 50% che fosse di Charles Gilley quindi nel 2015 Anna May frequentava entrambi gli uomini Jack Wagner con cui aveva già avuto una relazione e aveva una bambina Sophie e il fratello di Anna Hazel Gilley venne in seguito eseguito un test di paternità e determinato che Charles Gilley era il padre biologico di Kylie e non Jack Wagner poche settimane prima degli omicidi la famiglia Wagner aveva cercato di far firmare ad Anna May un documento in cui lei avrebbe rinunciato alla custodia di sua figlia che sarebbe passata in via esclusiva a Jack e alla sua famiglia 19 giorni prima degli omicidi pensate la nonna di Jack Rita Newton aveva prodotto un documento falso in cui Anna May aveva scritto ripeto era un documento falso di voler rinunciare alla custodia di sua figlia Anna May infatti si era sempre rifiutata nei mesi e negli anni precedenti all'aprile del 2016 a firmare questo tipo di accordi Jack infatti aveva proposto ad Anna innumerevoli volte di voler prendere in via esclusiva la custodia della loro figlia gli inquiranti scoprono che proprio nel dicembre del 2015 Anna May aveva scritto un messaggio privato su facebook ad una sua amica in cui aveva detto non permetterò mai che mia figlia viva con Jack e non asseconderò mai la sua volontà riferendosi al fatto che Jack e i Wagner più in generale volessero la custodia esclusiva di Sophie e poi aggiunge dovranno uccidermi piuttosto Anna non poteva immaginare che è esattamente quello che avrebbero fatto perché sì purtroppo erano stati proprio loro a sterminare quella famiglia e ora vi darò qualche informazione sulla famiglia Wagner vivevano nella cittadina di Pebbles sempre ovviamente in Ohio a circa 23 chilometri da Union Hill Road da dove viveva il resto della famiglia Rodan pochi mesi dopo gli omicidi però si erano trasferiti in Alaska e come racconteranno agli inquirenti avevano deciso di lasciare l'Ohio perché volevano andare avanti con le loro vite non potevano infatti continuare a vivere in quello stato dopo quello che era accaduto Anna May infatti per loro era come una figlia e Chris Junior un fratello più piccolo la polizia scopre che la lotta per la custodia di Sophie era piuttosto accesa tra le due parti Jack aveva accusato Anna May di commettere abusi sulla bambina ma queste voci queste accuse non erano mai state provate era solo un modo di Jack di denegrare le capacità genitoriali di Anna May a partire dal novembre del 2013 quindi quando la bambina aveva nemmeno un anno Jack pretendeva che Anna si trasferisse a casa sua e della sua famiglia a Pebbles cioè nemmeno solo con lui ma anche con tutto il resto della sua famiglia madre padre e il fratello George e Anna si rifiutò sempre di assecondare questa sua richiesta perché sapeva che quello per Jack era solo un modo di controllare Anna e la vita della bambina ci sono messaggi in cui Jack scrive Anna te lo dico forte e chiaro fai una scelta e falla ora se davvero non sceglierai per me tra noi due è finita prenderò Sophie anche con la forza se necessario ti amo con tutto il mio cuore se anche tu ami me e Sophie farai certamente la scelta giusta voglio che tu viva con me e Sophie non sto dicendo che dobbiamo rimanere a casa mia tutto il tempo ma lei vivrà ovunque sarò io Jack nei messaggi prosegue dicendo di voler costruire una casa per lei e la loro figlia ma aveva bisogno di soldi per farlo aggiunge non voglio vivere da te perché nessuno a casa mia farebbe mai del male a te o la bambina quindi vivrò dai miei fino a quando non costruirò casa mia puoi vivere con me e se qualcuno dà di matto possiamo sempre andar via e tornare quando la situazione si è calmata delle buone premesse aggiungerei proprio quello che una persona si vuole sentir dire quando va a convivere con il padre di sua figlia per i successivi due anni i messaggi tra i due continuano con contenuti comunque simili e nel marzo del 2015 Anna scrive non voglio stare con te tu mi fai del male ci sarebbe stato un episodio in cui Anna May aveva raccontato a delle amiche che Jack l'aveva rincorsa per tutta la casa l'aveva buttata a terra ed aveva iniziato a strangolarla aveva minacciato di ucciderla e aggiunto che avrebbe gettato il suo cadavere dove nessuno l'avrebbe mai trovata questo sempre nel 2015 Jack aveva tentato di farle firmare un nuovo documento in cui la custodia di Sophie sarebbe stata condivisa tra lui Jack e suo fratello George non so per quale motivo mi sembra una cosa un po bizzarra ma ovviamente lei si era rifiutata e nel dicembre del 2015 all'insaputa di Anna May ovviamente Jack aveva registrato una conversazione telefonica tra i due in cui stavano litigando in maniera piuttosto accesa lei lo accusa di essere un uomo controllante continua dicendo che non avrebbe ceduto alla custodia della piccola e chiude bruscamente la conversazione con un Merry Christmas la famiglia Wagner aveva vissuto la loro vita leggermente alienata dal resto del mondo trascorrevano infatti tutto il loro tempo insieme vivevano insieme lavoravano insieme mangiavano insieme i figli Jack e George non avevano mai frequentato le scuole pubbliche in quanto erano stati educati in casa il cosiddetto homeschooling su qualsiasi spesa sia familiare sia individuale i Wagner pensate si riunivano e decidevano insieme sul da farsi nell'estate del 2018 la polizia preleva le impronte delle scarpe dei tre membri della famiglia Wagner vale a dire Billy George e Jack e trovano una corrispondenza per la precisione con la scarpa destra di Jack Wagner con delle impronte di scarpe lasciate sul sangue che ricopriva il pavimento di casa di Chris e Gary Rodan la prima scena del crimine e così la polizia annuncia nel 2018 l'arresto di sei membri della famiglia Wagner sei perché ora vi spiego Billy Wagner di 47 anni Angela Wagner di 48 George Wagner di 27 ed il 26 anni Jack Wagner questi quattro vennero tutti accusati di omicidio aggravato ma restarono anche altri due membri la 66 anni Rita Newton la madre di Angela e la 77 anni Friarica Wagner la madre di Billy Wagner in pratica le nonne di Jack e di George con l'accusa di intralcio alla giustizia e spergiuro ipotizzarono che l'intera famiglia avesse architettato di sterminare la famiglia Rodan Jack infatti era ossessionato dall'idea di ottenere la custodia della bambina lui avrebbe anche ricominciato una relazione con Anna May ma lei sembrava aver chiuso in maniera definitiva con lui soprattutto dopo la nascita della piccola Kaylee e Jack non riusciva a tollerare di aver perso completamente il controllo su quella ragazza e anche sulla vita della bambina sembrerebbe che Angela Wagner avesse hackerato addirittura il computer di Anna May ed avesse letto il messaggio in cui nel dicembre del 2015 Anna avrebbe scritto privatamente a questa amica su Facebook sul fatto che la famiglia Wagner avrebbe dovuto ucciderla prima di avere la custodia di sua figlia e sembra che Angela avesse letto tutti i messaggi della ragazza dal suo account Facebook anche quelli che la ragazza aveva inviato o aveva ricevuto mesi e mesi prima del dicembre del 2015 e quando però Anna aveva detto quelle cose alla sua migliore amica Angela e il resto della famiglia avevano capito che quella purtroppo era l'unica soluzione quella proprio di uccidere Anna May sembra che abbiano votato sul da farsi come del resto la famiglia era solita fare per ogni decisione da prendere e tutti si erano trovati d'accordo sul fatto che quella cioè sterminare l'intera famiglia Rodan fosse l'unica soluzione avevano pianificato quell'attacco pensate per ben quattro mesi nei minimi dettagli avevano avuto l'accortezza di bruciare i vestiti e di gettare in seguito le cenere in dei secchioni lontani da casa loro gli avevano addirittura realizzato dei silenziatori fatti in casa cioè fatti da loro e nonostante comunque il movente sia stato chiarito una domanda sorge spontanea perché eliminare l'intera famiglia se veramente volevano la custodia della bambina perché non uccidere solo Anna May perché entrare all'interno di quattro diverse proprietà è diciamo passatemi la parola comprensibile il fatto che avessero voluto eliminare anche Dana e suo fratello Chris Junior perché ovviamente vivevano in casa con Anna May ma perché andare nelle altre tre proprietà ebbene la ragione sembra essere che così facendo avevano eliminato tutte quelle persone a cui potenzialmente avrebbe potuto aspettare la custodia di Sophie quindi eliminando non solo la madre della bambina ma anche sua nonna suo nonno i suoi zii e i suoi cugini con quasi assoluta certezza la custodia sarebbe stata affidata al padre Jack Wagner e Anna Hazel era una scomoda testimone o quello che verrà definito dalla famiglia Wagner stessa un danno collaterale ogni membro della famiglia ebbe un ruolo specifico nella pianificazione Angela si recò ad un negozio di scarpe sportivo dove acquistò proprio le scarpe che suo figlio Jack avrebbe indossato la notte dell'omicidio il 21 di aprile e nonostante in seguito si liberarono di quelle scarpe la polizia fu comunque in grado di tracciare l'acquisto che Angela aveva fatto a walmart qualche mese prima ed infatti il modello di scarpa combasciava con le impronte di quelle rinvenute sulle diverse scene del crimine Billy Wagner comprò un furgoncino che utilizzò pensate solo per la notte del 21 di aprile e poi se ne liberò in modo tale che se qualcuno avesse notato quel veicolo non sarebbe comunque potuto risalire alla famiglia Wagner nei mesi successivi studiarono minuziosamente le abitudini e gli spostamenti di ogni singolo membro della famiglia Roden studiarono la disposizione dei mobili e degli oggetti all'interno del loro trailer dove si trovavano le luci i giocattoli dei bambini studiarono il perimetro esterno alle proprietà per questo era una conoscenza della presenza delle telecamere acquistarono armi e munizioni sia per esercitarsi sia per gli omicidi testarono anche fino a quale distanza gli spari fossero udibili quindi un membro della famiglia faceva fuoco e gli altri via via si allontanavano sempre di più per verificare la distanza dalla quale lo sparo non veniva più sentito questo proprio nella loro proprietà infatti analizzando la corteccia degli alberi intorno alla casa in cui Wagner abitavano nel 2016 trovarono proiettili o frammenti degli stessi ovunque ed erano tra l'altro dello stesso marchio la Remington che erano stati sparati sulla scena del crimine tuttavia per essere più sicuri Jack comprò il necessario quindi diverse componenti online per realizzare dei silenziatori e pensate nella loro proprietà vennero trovate tre diverse armi da fuoco e vi spiego meglio dove vennero trovate dopo gli omicidi la famiglia Wagner aveva cercato di tagliare e scomporre in diverse parti e bruciare queste pistole ma non riuscendoci decisero di seppellirle nel cemento all'interno di un secchio da 18 litri di capienza dopodiché avevano gettato questo secchio con le armi e il cemento all'interno in uno stagno che si trovava dietro la loro proprietà ed i tecnici della scientifica non solo erano riusciti a recuperare questo secchio all'interno dello stagno ma grazie ad un tecnico specializzato in armi da fuoco avevano anche estratto e ricomposto le tre pistole le avevano testate e confermato che i bossoli rinvenuti sulla scena provenivano proprio da quelle pistole sembra che quella notte Billy avesse un appuntamento con Chris Roden che quindi lo aspettava nel suo trailer con la scusa di voler acquistare della marijuana da Chris quella notte così Billy parcheggia il suo furgoncino mentre George e Jack erano lì nascosti e poco dopo che Billy scende dal mezzo di trasporto anche George e Jack lo seguono in casa tenendo rimboscata le vittime e sembra che Jack e suo fratello George si fossero ispirati a un film Boondock Saints e avessero guardato proprio quella sera quel film per autosuggestionarsi a quanto pare i protagonisti di questo film sarebbero una coppia di gemelli armati fino ai denti che aggrediscono diversi individui nel corso della pellicola e Jack e George non solo si erano ispirati nel replicare i movimenti degli attori ma addirittura si erano vestiti come loro e così il 13 novembre del 2018 questi sei membri della famiglia Wagner vennero arrestati a Billy Jack e George vennero imputati 22 accuse ma inizialmente tutti loro si dichiararono innocenti la madre di Billy Rodisa venne prosciolta da ogni accusa era stata anche accusata perché nel 2018 la polizia aveva trovato due giubbotti antiproiettili e in un primo momento ritenderò che la donna li avesse acquistati prima degli omicidi per procurarli ai membri della sua famiglia da indossare mentre compivano gli omicidi ma in realtà non era così perché la donna li aveva acquistati successivamente al massacro della famiglia Roden e l'aveva fatto su ebay aveva infatti prodotto anche la ricevuta con la data dell'acquisto proprio perché temeva per l'incolumità della sua famiglia quindi lei venne prosciolta da ogni accusa Jack ed Angela fino al 2021 si dichiararono innocenti e profondamente addolorati per quanto accaduto alla famiglia Roden sostenendo che fossero dei loro cari amici e che volevano giustizia per loro e speravano che i veri assassini venissero arrestati questo fino all'aprile del 2021 quando Jack stringe un accordo con il procuratore infatti racconta tutto quello che era avvenuto quella notte dichiarandosi colpevole di 23 capi di accusa e non 22 ma ci tornerò tra un secondo testimoniando contro suo padre Billy e suo fratello George con la garanzia però che a quest'ultimi nel caso altamente probabile in cui fossero dichiarati colpevoli non avrebbero ricevuto la pena di morte quindi in realtà aveva si testimoniato contro di loro però per fare in modo che non venissero giustiziati in caso di condanna di colpevolezza Jack ammette di aver ucciso lui stesso 5 delle 8 vittime infatti sarà proprio Jack a portare gli investigatori al furgoncino che il padre aveva acquistato per gli omicidi in tribunale vennero fatte sentire alcune telefonate che Jack aveva segretamente registrato tra lui ed Anna in cui litigavano per la custodia di Sophie a prova del fatto che lui fosse estremamente aggressivo e possessivo non so nemmeno perché onestamente avesse tenuto queste conversazioni visto che andavano sicuramente non a suo vantaggio a Jack venne aggiunta una ventitreesima accusa per la quale si dichiarò colpevole quella di condotta sessuale illecita a danni di una minore Jack infatti aveva iniziato ad avere rapporti sessuali con Anna quando lei aveva solamente 13 anni e lui 18 quindi era maggiorenne venne condannato ad otto ergastoli e chiaramente non uscirà mai più di prigione Angela venne prosciolta dall'accusa di omicidio in quanto quella notte si trovava in casa con Sophie quindi con la nipotina ma in cambio si dichiarò colpevole per alcune delle seguenti accuse cospirazione furto aggravato e manipolazione e falsificazione delle prove venne anche fatto sentire un audio in cui Angela parlava la sua nipotina urlandole perché sei così sporca non ti fanno il bagno lì e la piccola ho sentito questa questo audio era proprio mortificata e aveva risposto sì di sì cioè che glielo facevano il bagno e Angela le grida nuovamente di rivestirsi quindi presumo che la bambina fosse nuda mentre le stava urlando contro Angela viene condannata a 30 anni di reclusione e testimonierà anche contro il resto della sua famiglia i processi per i vari membri della famiglia si svolgono in momenti diversi e la famiglia Wagner viene presentata come una famiglia che svolgeva già da tempo attività illecite come lo spazio di droghe il furto e la vendita di armi Jack al processo racconta che inizialmente il loro unico target era Anna May ma poi capirono che se non avessero eliminato anche Chris lo zio il cugino il fratello maggiore sicuramente questi uomini avrebbero potuto vendicarsi a sua volta per quanto riguarda le altre vittime sostenero di non aver avuto scelta in quanto si trovavano in casa in quel momento e non potevano lasciare testimoni quindi erano dei danni collaterali quindi questa era stata la versione di Jack Wagner anche se sua madre invece aveva detto quella che vi avevo raccontato precedentemente ovvero che il motivo per cui avevano sterminato l'intera famiglia era quello di voler essere sicuri di ottenere la custodia di Sophie quando erano arrivati alle case delle vittime avevano utilizzato dei bad detector per individuare se ci fossero delle cimici in casa che avrebbero potuto registrarli ed utilizzarono degli apparecchi che portarono con loro per disturbare le frequenze telefoniche così che le vittime non avrebbero potuto utilizzare i loro cellulari durante l'attacco quindi magari non so chiamare il numero d'emergenza o mandare comunque un messaggio a qualcuno erano non solo armati fino ai denti ma proprio preparati Jack racconta che quando arrivarono a casa di Chris Wagner George aveva il compito di sparare a Chris senior ma quando si trovò sul punto di farlo era paralizzato così Jack stesso puntò l'arma contro Chris e fece fuoco come ho già detto Jack uccise cinque delle vittime e suo padre le altre tre George quindi effettivamente non aveva fatto fuoco su nessuno non aveva ucciso nessuno quella sera ma per la legge dello stato dell'Ohio questo non fa alcuna differenza George era comunque lì presente era comunque complice aveva partecipato in pieno alla pianificazione così come al depistaggio successivo e anche alla eliminazione delle prove George in sua difesa racconta di non essere stato presente durante gli omicidi sostenendo che non avrebbe mai creduto che la sua famiglia fosse capace di uccidere soprattutto non otto persone e che lui si sarebbe rifiutato di prendere parte a una cosa di questo tipo l'avvocato difensore di George Wagner Richard Nash nel processo aveva detto che ci sono delle cose nella vita su cui non si può fare proprio nulla e una di queste è il proprio cognome non è colpa di George essere un Wagner questo non fa di lui un assassino Jack aveva raccontato che lui e suo fratello George si erano nascosti sotto un tettuccio in tela che era stato montato nella parte posteriore del furgoncino e l'avvocato difensore di George aveva detto che questo non era fisicamente possibile perché il suo cliente George all'epoca dei fatti era troppo sovrappeso e non avrebbe avuto sufficiente spazio per sdraiarsi sotto questo tettuccio e quindi questo significava che non era presente sulla scena questa teoria per difenderlo venne facilmente confutata quando due agenti della polizia entrambi fortemente sovrappeso riuscirono con facilità a sdraiarsi al di sotto di quel tettuccio senza avere alcun problema infatti le foto tra l'altro di questi due agenti vennero anche presentate in tribunale quindi questo non escludeva certo la presenza di George sulla scena del crimine George era presente al momento degli omicidi aveva anche spostato i corpi aveva nascosto delle prove e infatti anche George venne ritenuto colpevole di tutte e 22 le accuse ovviamente incluse quelle di omicidio e venne anche lui condannato ad otto ergastoli come suo fratello Jack numerosi membri della famiglia Roden testimoniarono per esternare il loro più profondo dolore e la devastazione che quegli omicidi avevano causato nella loro famiglia riguardo a Billy Wagner invece il suo processo inizierà nel gennaio del 2024 quindi non conosciamo ovviamente l'esito della sentenza gli otto giurati pensate vennero portati a visitare proprio le scene del crimine al Pike County anche a casa proprio di Jack Wagner dove viveva con i suoi genitori alla fattoria della nonna di Jack e ovviamente sulle quattro scene del crimine infatti secondo il giudice questo avrebbe meglio orientato il giudizio dei giurati offrendo anche una maggiore chiarezza su come si erano svolti i fatti e ai giurati era stato consigliato di vestirsi e cito quanto riportato non come se dovessero uscire di sera e erano stati invitati a indossare scarpe chiuse e comode perché certamente avrebbero camminato un bel po' in quei giorni e non so l'ho trovata una cosa particolare che li portassero proprio sulle scene del crimine e io personalmente ritengo che Angela Wagner fosse ugualmente colpevole Angela non sarà stata l'autrice materiale degli omicidi ma aveva comunque preso parte alla pianificazione era andata a comprare le scarpe a suo figlio a mio avviso per la mia personale opinione avrebbe meritato otto ergastoli anche lei spero di essere stata chiara nella spiegazione di questo caso visto che era piuttosto complesso anche proprio per il numero purtroppo delle vittime e quindi anche insomma delle scene del crimine delle modalità in cui erano state comunque uccise e detto questo io sono veramente curiosa di sentire le vostre opinioni su questo caso fatemi sapere anche se lo conoscevate l'ho trovato un caso veramente allucinante che per garantirsi la custodia della loro nipote siano arrivati a massacrare una famiglia intera in quattro diverse proprietà l'ho trovata una cosa veramente sconvolgente detto questo io vi saluto e noi ci vediamo molto presto con un nuovo video ciao